Buongiorno e benvenuti. La logica è quel campo del sapere che ha come oggetto le leggi universali e necessarie del pensiero. La logica classica, di stampo sostanzialmente aristotelico, si configura come un sapere puramente formale, ovvero come un apparato di regole da osservare scrupolosamente al fine di poter effettuare dei ragionamenti corretti, cioè di poter dedurre conclusioni vere da premesse vere. In sostanza la logica è organon, strumento, cioè un valido strumento di calcolo applicabile ai contesti più diversi. In quest'ottica lo scopo fondamentale della logica è quello di valutare la correttezza formale dell'indagine conoscitiva, mentre invece alle singole scienze spetta il compito di occuparsi del contenuto di verità della conoscenza. Hegel, in forza del suo pallogismo, rifiuta con nettezza questa impostazione perché implicherebbe un pensiero separato e contrapposto rispetto alla realtà. Al contrario, per il nostro filosofo, la ragione abita il mondo e la realtà non è altro se non il dispiegarsi del pensiero, per cui non esiste una realtà esterna e indipendente rispetto al pensiero. La tesi di fondo della logica hegeliana è che logica e ontologia coincidono, nel senso che la scienza del pensiero deve riunirsi alla scienza dell'essere, in quanto la logica non è solo un modo di funzionare del pensiero, ma ci parla anche delle strutture di fondo del reale. Quindi, per Hegel, la logica è lo studio dell'autostrutturarsi dell'impalcatura dell'intero. Hegel, inoltre, critica in modo radicale il razionalismo e l'empirismo, cioè le due principali concezioni epistemologiche che contraddistinguono la cultura filosofica moderna. Il razionalismo si caratterizza per le sue pretese essenzialiste, cioè per l'idea secondo la quale il pensiero umano è in grado di cogliere conoscitivamente la vera essenza delle cose. Viceversa, per gli empiristi, il sapere metafisico è un sapere privo di qualsiasi valore teoretico, perché la fonte e il fondamento della conoscenza è da ricercarsi nell'esperienza sensibile. Tuttavia, al di là delle specifiche posizioni, secondo Hegel, questi due modelli di razionalità affondano le radici in una matrice filosofica comune, cioè nel presupposto per il quale esiste una realtà che viene prima del pensiero e alla quale il pensiero deve adeguarsi. Nel caso del razionalismo si tratterebbe di un ordine metafisico oggettivo, nel caso dell'empirismo di un insieme di enti fisici. Agli occhi di Hegel questa teoria della conoscenza appare assolutamente inammissibile, perché è in acceso contrasto con il cuore dell'egilismo, che prevede una unità originaria di ragione e realtà, di pensiero ed essere. Gli strali di Hegel non risparmiano neanche la filosofia kantiana. La logica trascendentale ha compiuto, indubbiamente, dei significativi passi in avanti rispetto alla logica classica formale di tipo aristotelico, perché possiede un contenuto, cioè aspira a scoprire le condizioni di possibilità della conoscenza, ovvero come è possibile conoscere il reale. Tuttavia, ad uno sguardo più approfondito, è del tutto evidente che anche Kant rimane prigioniero di una visione dualistica del reale. Infatti, le forme trascendentali sono strutture inzite nella mente umana, modi attraverso i quali il soggetto coglie le cose e operano solo all'interno del mondo fenomenico, mentre il mondo noumenico sfugge alla loro portata. Dunque, anche in Kant troviamo una frattura insanabile fra il soggetto che conosce e l'oggetto da conoscere, cioè la cosa in sé. La logica hegeliana è tutt'altro che formale. Perché? Perché possiede un contenuto, anzi possiede il contenuto più alto, ovvero lo svolgimento del vero, il libero sviluppo dialettico dell'idea. Per Hegel la logica è l'autoesposizione del pensiero, il suo progressivo chiarirsi a se stesso attraverso una serie di passaggi che ne determinano la natura in modo sempre più ricco, preciso, adeguato. In una prima fase prevale l'astrattezza, nel senso che i singoli enti vengono considerati come isolati, separati e dunque i primi gradini sono concettualmente poveri. Dopodiché, via via, si afferma sempre più la concretezza, per cui il particolare viene concepito come espressione del tutto, cioè come parte di quella vasta rete di relazioni che costituisce la complessità del reale. In questo contesto è possibile comprendere pienamente il senso profondo di una celebre espressione figurata utilizzata da Hegel che, non di rato, ha generato equivoci interpretativi. Hegel parla della logica nella prima parte delle enciclopie delle scienze filosofiche in compendio e, inoltre, in un'opera intitolata Scienza della logica. Proprio in quest'ultima opera Hegel così definisce il contenuto della logica. L'esposizione di Dio, così come egli è nella sua eterna essenza, prima della creazione della natura e di uno spirito finito. La parola chiave è la parola prima. Ora, questo termine non deve essere inteso in senso cronologico-fattuale, come se si trattasse di un processo fondativo, come se si trattasse del creazionismo biblico, ma si tratta di un momento di un più ampio ordine speculativo, per cui la logica è una scienza pura, nel senso che si occupa di strutture concettuali pure, cioè della trama razionale del mondo. Invece ci sono delle altre scienze che sono, tra virgolette, impure. Sono le scienze che si occupano della natura o della realtà sociale. Perché? Perché sono oscurate da una molteplicità di manifestazioni contingenti. Ora, la logica egeliana assimila in una struttura globale tutte le forme di razionalità. La logica classica formale di tipo aristoterico, la logica trascendentale kantiana, la tradizione metafisica, il sensismo, rielaborandole come gradi di un unico processo di sviluppo razionale, necessario e progressivo. Grazie, alla prossima!